Come ogni anno la comunità di Modica Alta si è stretta intorno alla famiglia Brafa in occasione del settimo anniversario della morte del piccolo Giuseppe. Ormai da anni si svolge a Modica Alta, nell'oratorio salesiano, il tradizionale torneo di calcetto nel campetto intitolato al bambino. L'iniziativa promossa dall'oratorio San Domenico Savio è stata voluta proprio nel giorno della tragedia di Punta Pisciotto, che si verificò il 15 marzo del 2009, quando, come tutti ricordano, il piccolo fu assalito da un branco di cani randaggi e non ebbe scampo. Le conseguenze penali dell'episodio hanno portato la condanna a sei anni inflitta all'allora sindaco Giovanni XXV, avvenuta lo scorso 28 settembre, la pena più severa dopo quella inflitta al custode dei cani Virginio Giglio, condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione, mentre furono assolti i veterinari dell'ASP7 e i dipendenti comunali coinvolti nella triste vicenda. Il piccolo Giuseppe frequentava l'oratorio dei salesiani e faceva parte della squadra di calcio dell'Orsa. Nel terzo anniversario della sua morte, nel 2012, gli fu intitolato un campetto di calcio dove ogni anno si svolge il torneo in sua memoria, con tanti piccoli giovani allievi felici ed entusiasti proprio come lo era Giuseppe.